Il Vangelo di oggi ci invita a guardare ancora una volta a Maria, la donna della fede, la donna della speranza. È proprio lei che ci invita a fidarci e ad affidarci a Dio in ogni circostanza della vita. Purtroppo siamo abituati a controllare tutto, ad essere organizzati e a decidere per noi stessi. Rigettiamo il fallimento, temiamo di non essere mai all'altezza delle aspettative degli altri. Siamo sempre terrorizzati quando emergono le nostre debolezze perché convinti che mostrare i nostri punti deboli ci renda vulnerabili agli altri. Chiediamo dunque aiuto a Maria, nostra Madre, nella preghiera sincera e fiduciosa, affinché ci ispiri passi da fare per essere buoni cristiani e per seguire Cristo nella nostra vita quotidiana. Quali sono le tue più grandi paure? Cosa fai per gestire la paura nei momenti di prova?